ciao a tutti ragazzi vi parla bandolero e oggi continueremo la serie principale di minecraft terzo episodio gioco al mondo di bando l'avevo fatto due giorni fa era di notte l'ultima volta quindi vabbè a vedere così saremo il sicuro dovremmo essere al sicuro poi se entrano i mob cercherò di ucciderli intanto mi metto qui la spada allora mi metto qui prima gra di legno che vuole prossimo a questa poi dopo gra di legno pietra ed infine gra di ferro poi io vorrei anche andare a cercare un po' di di cose come il il carbone del materiale io dico di levare questo di metterci un pezzo di vetro così si può anche vedere no ve li farò anche di qui e poi qua lo farei qua da due parti io l'indico qui io l'indico qui 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 così vedete che potete vedere e qui poi dopo quando verrà giorno racconto anche le cose che sono le fori come queste e poi credo che oggi farò solo un video non lo so non lo so e mettiamo questo di qui e aspettiamo il giorno poi mi servirebbe anche un altro pezzetto di lana fammi il letto l'arco devo uccidere i ragni devo uccidere devo uccidere i ragni mob come potete vedere sta anche diventando forno ma non l'ho messo qui non l'ho messo qui dai dai deve rimanere deve venire il giorno però prima dovrei uccidere i mob che sono nei dintorni così riesco anche a fare meglio il letto perché se no se mi spara un coso se c'è lì uno scheletro mi tira le frecce e mi fa cascare di sotto vediamo vediamo vedere così ho visto qualcosa qua morto l'ha ucciso questo ora mori 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 maledetto vabbè me lo voglio uccidere tu ma non è solo uno di cuoio vabbè ora c'è anche le mucche vieni qua pittura ma io dico di continuare con il tetto ora poi giù a rifarmi anche un po' giù a riprendere un po' di legno un po' un po' poi nel prossimo video se ho finito il tetto farò anche o altre case dove quando sarò a multiplayer ci dormono i miei amici cioè i miei amici quelli che ci giocano quelli che giocano a mantra noo così noo 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 con ti Grazie a tutti. Grazie a tutti.